Alessia, Alessia, spostati. Nicola, Nicola, sto riprendendo. Non so che ti piacere, lo sappiamo. Dai, lasciati andare, Annina, lasciati andare. Non mi fare a prendere, Anna. Anna, non mi fare a prendere. Cazzetta dei dollari. Anna, mi raccomando. Non svenire, Anna. E' più giorni, Gesù, se è più giorni. Anna, mi raccomando. Subito al dunque vuoi arrivare, ma insomma. Non vuoi arrivare subito al dunque. Togli la maschera, se la metti in camera da lei. Guarda l'occhio qua. Aiaiaia. Aiaiaiaia. No, no, se sei riconosci, dai, come fai a riconoscere. Mi dì, ma devo pusci, non devo uscire. No, stasera, stasera. Vai, vai. Approvvita stasera, Anna. Approvvita, Anna. Alessia. Caricatura, stasera, portofvita. Caricatura. Porta un po' No, no, no. Vai, qui si deve especciare un peccato. Di tu modo, tu tu sei. Anna, Anna. Anna. Vai, di così, dai. Questa è la serata di Dianne. A te, tu lo puoi sbottonare, tu. Sbottonare. Sbottonare. Scusa, non puoi sbottonare. Scusa, non puoi sbottonare. No, per sbottonare. No, no, no. No, no, si, si. Non puoi sbottonare. No, no, no. Guardate questo ballato dentro. Guardate qui, ha sceso. Ma, ma. Ma. Legate il marito, legatelo! Il marito è una mia escandescenza, legate il marito! Intentatelo! Attenzione che c'è il frattato che controlla! No, uguale accettino! Olè! Oh, wow! Sentami! Ah, basta! E' l'ho anch'io! Oh, il mio fisico non c'è più! Lo so, bisognava! Buonasera a tutti! Buonasera! Buonasera! Se le buonasera, il mio telefono! A gente pensa che il frattato è un telefono! Ma non c'è nessun aiuto? E' questo del frattato dice... ...e' un filo dei fiori! E' stasera, o ce l'ha successe... E' stasera, gi' hai avanti! E' un fiorino. Ti preoccupare! Quando vuoi compriarlo tu? Un problema mio è passare Dall'orecchino